Sulla vicenda Loculi al cimitero di Siracusa non è più procrastinabile la presentazione di una denuncia alla procura da parte di chi ha scoperto eventuali reati, specie quando si tratta di un uomo politico o un uomo pubblico. Il riferimento è ai leader politici dell'opposizione Ezechia Paolo Reale e Vincenzo Vinciullo, così come altri uomini impegnati in politica. Vinciullo scrive, qualcuno ha modificato il regolamento e vengono distribuite copie modificate. L'originale dell'articolo 73 fa riferimento all'articolo 81 e non al 70. Stiamo parlando del regolamento di polizia mortuaria, quello approvato a fine 1996, che prevede le concessioni di 25 anni per i Loculi. Concessioni che quindi scattano dal 1 gennaio 1997 e che diventano rinnovabili quindi dal 1 gennaio 2022. E' accertato che il regolamento in questione non può avere effetto retroattivo. Oggi ci sarebbe quindi il tentativo di manipolare il regolamento stesso e quindi di far pagare due volte Loculi che sono già di proprietà, almeno tutti quelli acquistati prima del gennaio 1997. Ancora più esplicito è Ezechia Paolo Reale che nella sua pagina Facebook pubblica esiste un atto ufficiale che certifica la falsità della correzione. L'articolo 73 conteneva il riferimento a un esistente articolo 81 e avevo chiesto con un emendamento ufficiale di cancellare quella frase del regolamento. E' stato trattato in aula consigliare e non accolto oppure dichiarato inammissibile. C'è da registrare che l'ufficio del comune che si occupa dei servizi cimiteriali nella sede di via San Metodio al cittadino che si reca per presentare la domanda per il rinnovo della concessione su Loculi non chiarisce e non fornisce alcuna concessione, quindi senza la prova provata, la certezza che ci sia una scadenza, ma si limita solo a darti il numero e la data. A completare l'opera il passaggio all'ufficio del protocollo, dove gli impiegati si limitano a raccogliere le domande senza dare un numero, così non avviene l'iscrizione nel registro. Quindi l'attestazione che i cittadini hanno presentato la domanda, riferendo al malcapitato cittadino in maniera poco chiara, che dopo aver pagato la somma richiesta, il cittadino deve recarsi di nuovo all'ufficio servizi cimiteriali con la ricevuta del versamento per avere una nuova concessione, quindi a danno su se stesso.